bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono magno e oggi siamo di nuovo con panso e stiamo andando al monginevro eccolo qua bucchè ci sono le bucchè fantastico le spettacole di a***** sono le bucche altre bucche intramendo le bucche c'è bucche allora siamo fermi al semaforo e siamo già entrati a susa e adesso incomincia la lunga marcia verso non mi ricordo se c'è prima exil o ulzi o comunque ci sta sono solo lavori per caputare guardare un po voi Grazie a tutti. Piano senza staccare la gamba, senza staccare la gamba, dai 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 dai. No, non ci credo. Ma porco d***o, dai oh. Fa un culo d***o in questa marcia di merda. Dai 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 che ci arriviamo. Ok ragazzi, sono appena in riserva, a bestia proprio, e adesso devo fare il primo cazzo di benzinaio di merda. Mi devo fermare assolutamente. Siamo entrando a Ulzio. M*****o ma costa pure un macello. M*****o è super di uc. F***ata. Un po' di merda di uc***o. Mi ha schizzato via tutto, Dio buono. Ma la mia moto esplode tra un po'. E vabbè che finisce la benzina, Dio fa, sto sopra la netta. Incredibile pensare che sono agli 80 all'ora. Pensare, boh. Questo è magari un parecchio molto più piano. Parecchio molto più piano, si dice, boh. Per farvi capire. Io purtroppo ragazzi più di così non posso andare. La moto è quella che è. Ma che freddo, Dio buono. Fa freddo della Madonna qua dentro. Sole. Benedetto sole. Spettacolo. Credo fosse il confine. Spettacolo. E' in Francia, eh? Lo so. E' come mi sono piegato addosso qui. Ma piglia ancora altre G. Sai che mi sono piegato addosso qui? In che senso? Eh, c'era la polizia. Ma no, vabbè, era... Ma tanto, a parte che ce l'hai tu il coso. Che ogni cazzo di volta che accelera divento sordo, Dio p***o. Gli cazzo sta andando. Deciditi, Panza, cosa sto facendo. E' lui? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Sa c'ho? Voglio provare una cosa. Eh? Voglio provare ad andare lì in mezzo. La nera? Ok ragazzi, siamo arrivati a Montginevro, guarda, c'è ancora gente che gira sulle piste. Beh, adesso sono le 5 e stanno andando tutti via perché chiudono le piste. Niente, siamo qui. Qui sono le moto bellissime, fantastiche, stupende. E' il Yamaha di Panza, è il mio super moto, sti cazzo. E' il casco di Panza con il 46Gb Megapower. Niente, adesso siamo un po' qua. Forse ci fermiamo a fare un paio di foto, un paio di Instastory, sti cazzi. Ci rivediamo dopo, bella. Con le ruote tassellate ti scassate. Non va più avanti. Dovresti avere i chiodi, eh? Le ruote chiodate, socio. Come minimo tassellate. Ma speggi Radio Fah. Il campione si arrende. Saluta campione.